Cari amici che seguite Liberi.tv, pensate a quante sinergie, quanti comuni sono stati interpellati per riunirsi a questa tavola dell'elogio della bagna cauda. Non ultimo il ciapinabò. Il ciapinabò che cos'è? Perché dobbiamo anche dare delle spiegazioni di prodotti che magari non sono universalmente conosciuti. Il ciapinabò è praticamente una delle verdure principali per la bagna cauda, con il cardo e con il peperone. Il ciapinabò è il nostro storpiatura in piemontese, il nome diciamo neanche italiano è topinambul, che è il più conosciuto. Il nome italianissimo è il liantutuberoso, però neanche quello non è conosciuto. Allora lo contendiamo a chiamare Topinambur, che a me non piace comunque per quello che è tenuto il nome ciapinabò. Ciapinabò quest'anno siamo qua con grande onore a Roma, con gli amici di Piemontesi a Roma, perché io ho conosciuto il presidente Zanone, che è stato sindaco a Torino, a Moncaglieri e alla Trippa, perché noi di Carignano aiutiamo anche a organizzare la festa della Trippa di Moncaglieri. E questa è sempre sinergia e come unione anche il discorso della bagna cauda, che è veramente un piatto dell'amicizia e un piatto povero. Come povero il ciapinabò? Il ciapinabò è stato un prodotto dimenticato nei tempi, dove si usava come foraggio per animali o queste cose. A Carignano, 23-25 anni fa, è venuta fuori questa idea di dedicargli tre giornate per fare una bellissima sagra e da lì il ciapinabò è di nuovo sulla bocca di tutti. Non solo si mangia nella bagna cauda, ma si fa tantissimi piatti con il ciapinabò. Noi a Carignano facciamo dall'antipasto al dolce tutto a base di ciapinabò e addirittura lo facciamo fritto. Ecco, questo anche nel corso di una vera e propria manifestazione, quindi diciamo che il ciapinabò vive anche una sua autonomia enogastronomica, giusto? Vive e sono felice che tantissimi agricoltori stanno veramente coltivando questo tubero che porta economia, perché si vende dai 3, 4 e 5 euro al chilo, non mi sembra così poco. Ottimo, quindi ancora una volta i prodotti della terra veramente come idea per rilanciare proprio anche un tipo di economia, che è quella agricola che ormai è diventata veramente importante, un'economia di ritorno, perché effettivamente molti giovani stanno tornando all'agricoltura. Vale anche per il ciapinabò? Sì, i giovani comunque stanno capendo che l'agricoltura è un valore aggiunto che si può veramente creare economia con l'agricoltura, anche perché, parliamoci chiaro, l'industria è un po' ferma, l'agricoltura si mangia, comunque si continua a mangiare. E poi non solo, il ciapinabò comunque ha molte proprietà da medicali e gastronomiche. Sì. Sì.